ah finalmente entriamo nel serve dopo tanto tempo tranquilli il video di black di mercoledì l'ho già visto quindi so cosa mi aspetta mi aspetta tanto tanto lag e tanto amore quindi volevo far vedere insieme a voi cosa succede ecco infatti appunto allora vediamo il danno io io lascio tutto così perché voglio vedere cosa riesce a fare vimbor allora vediamo quanti fps faccio aspetto che tolgo questo coso che disturba ma dove cazzo si vedono i fps ah ecco faccio 15 20 fps così ne faccio sempre 10 11 va bene dai non è non è tanto grave pensavo peggio ora non carica subito perché sono entrato adesso mi girano pure gli occhi ok black e dead vorrei dire che questa si è guerra allora quali tolgo subito perché magari aspetta io vi ringrazio del vostro regalo ma veramente non era necessario farlo cosa butto la rotta e flash davvero non era necessario fare tutto questo vi siete disturbati per noi non ce n'era davvero bisogno ah vi ammazzo ok tanto basta togliere le torce di redstone e tutto si sistema insomma faccio tipo la media dei venti qui e guardando lì il problema che faccio tipo 15 fps 9 8 no 8 no va bene guardiamoci questo come dire album di foto cioè guarda qua guarda cosa c'è là dentro dentro la montagna che non mi si carica perché la connessione questa è la connessione ovviamente guarda guarda qua guarda qua va bene qui va bene dire che chiudiamo questo video questo video questo video reazione qui perché boh perché buono veramente non so che dire guarda e immaginate io già sapevo cosa era successo qui nella montagna immaginate se non l'avessi saputo cioè la mia vera reazione quando ho visto il video è stato cosa cazzo hai fatto Black ecco questa è stata la mia reazione più o meno vi saluto allora signori benvenuti in questo nuovo episodio della CCM mi sto inoltrando un po' più a nord della nostra montagna fantasy a seguito di quella clip che avete visto praticamente due secondi fa però per me sono passate tipo sei ore una cosa del genere praticamente pomeriggio ho visto che la montagna era piena zeppa di roba e non so perché io sto frizzando tipo sto facendo quindi 14 fps non so perché secondo me perché abbiamo ridato al mittente quello che ci è stato dato però ancora non basta ancora non basta con noi stasera non c'è nessuno che deve salutare con noi stasera non c'è nessuno degli interessati però abbiamo con noi vimborone ciao vimborone scusa se non c'è nessuno degli interessati complici colpevoli della cosa però ci sono quelli che hanno subito la cosa certo i vicini di casa i coinquilini e quindi e quindi ci sono le ripercussioni è certo perché ogni azione corrisponde una reazione quindi esatto adesso io mi approfino a ogni azione corrisponde una reazione uguale con gli interessi è uguale con gli interessi molti interessi solo che la mia connessione non mi aiuta per chi c'è anche non me li carica signore connessione signore connessione posso sfruttare la cosa per dire che nel mio canale troverete o l'avete già trovato il video in cui ci vendichiamo sul signor black sicuramente perché questo video esce dopodomani quindi il mio esce dopo perfetto come si chiama hai capito è ottimale allora siamo in questa zona qui dove un certo signor deadmax ha fatto robe però già ha fatto un capannone che è molto simile al mio della modata è meglio già mi dà fastidio io gentilmente mi sono grazie a un'idea di vimbor quindi credits vimbor off craftato degli smoker che io pizzerò un po' alla cazzo un po' dappertutto ah 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 uccidi l'ammazzala quella puttana no non posso rompere il computer è scappato ah ok vabbè ma tanto che si metterà di questo computer che hai adesso no? come no? aspetta io arrivo la macchia e torno vado la macchia facci facci e quindi io niente sto piazzando robe a caso proprio per dare fastidio al signor dead perché lui ha dato fastidio a noi e giustamente io do fastidio a lui però dai non è malvagio quello che ha fatto lui ha fatto un porto con cose fumanti ma più carino carino la nave portuale la nave quella un po' più con le vele però ovviamente io vi vendico mettendo a caso i cosi qui ovviamente io non sono come vimbor malvagio come vimbor forse di più forse di meno diciamo che comunque il mio griefing è molto più ecosostenibile del suo perché io le sto mettendo a mano e quindi però se io metto tipo un coso qui il fumo si dovrebbe espandere giusto o no? sbaglio? vabbè continuiamo a piazzare roba così a caso in modo che riempiamo di fumo tutto sto posto che bello la troia è scappata che si dice? gente che sto dicendo ai loro signori che i miei griefing sono più ecosostenibili dei tuoi perché io le sto piazzando a mano è vero mentre tu hai fatto altra roba ma potete piazzare i cochiller scusa? ma sono troppo pochi ma siccome non mi va di spiegare ah sì lo voglio vabbè non fai scusare che poi il mio esce dopo domani quindi eh siccome non mi va di spiegare così tanti materiali per uno scherzo che già ne abbiamo fatto uno ma proprio per oh guarda quanti animali che ci sono qua il fatto è che noi abitiamo insieme loro invece abitano su due sponde diverse di un mare quindi esattamente ah qui ci sono più piani quindi andiamo a riempire di queste robe i più piani proprio io sto andando lo sto facendo cioè ne ho pochi no? però lo sto facendo in modo spasso quindi se li dovrebbe se li dovrà andare a cercare uno uno per Left Again eh no non ci sono però vai tranquillo va bene le mettiamo in modo casuale asimmetrico così se lui magari ha manie di simmetria gli dà fastidio io sto soffrendo giuro sto soffrendo a giudicarla come ha messo di lente ma anche da noi non ha manie di simmetria boh che ne so io intanto le le metto in fastidiosamente asimmetricamente sì sì bravo bravo che cos'è sta roba poi gliela affumico pure ok ma sott'acqua fanno fumo sti robbi? no? no vabbè quello non lo troverà mai perché è sott'acqua però visto così da fuori sembra che la casa stia andando a fuoco dall'interno vedi vedi se c'è un accendino da fuoco a qualche blocco qua e là magari perché alla casa di legno no 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 alla casa di legno no 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 non mi pare il caso ok ok vabbè no 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 non ha la casa di legno non ha preso il ragione poi io l'ho trovata ieri per caso giuro e io pure allora qua ci siamo la zona qua poi io li sto mettendo un po' a casa anche sugli alberi perché tanto lo ha bello riempito sto posto c'è zone qui io gli interrompo pure il corso d'acqua perché è bello questa è sta roba ah l'ingresso di casa perché ok ci sono andato prima buttiamoci qua altre robe la spiaggia affumicata questa sarà ok andiamo di nuovo nella zona qua del porto del porto perché qui questa fontile mi sembra un po' troppo simmetrico un po' troppo sistemato caruccio senza fumo quindi aggiungiamo gli effetti speciali ecco bravo bravo anche la gru anche la gru ha bisogno dei suoi effetti speciali serve più fumo mio signore serve più fumo più fumo così andiamo a rovinare tutto il paesaggio non so cosa siano stirobic qua penso siano container ma se prendiamo un bottone non succede niente o sembra un proprio container questi pure io mi hanno capito cosa rappresentano ma secondo me è proprio solo estetica però vabbè o dà poi ce ne sono solo tre mi pare sì poi gli resti sono sulla nave ah ecco allora si sono container allora qua mettiamo un po' roba a caso comunque il grieffing tuo è molto pesante come server mi sa sai eh ma quello che hanno fatto loro non è che era più leggero io non mi muovevo invece da loro mi avevo 4 o 6 fps in effetti io ne sto facendo adesso una ventina però sto registrando e tutto però di solito ne faccio 30 no? capito? perché il pilocchio io a 30 quando non registro quando non registro invece sono 120 e invece erano quanti erano? un po' di meno 40-60 quindi sì vabbè fatto sta che quello che hanno fatto loro era molto più pesante di quello che abbiamo fatto noi ma vedrete ma vedrete attendete più i cosi allora la guerra è aperta e mi mancano gli ultimi due smoker di cui uno non li ho metto qua proprio per sfizio per nascondere ma te la metto qua ma qua ci passo attraverso? e allora niente pensavo fosse solido e l'ultimo lo piazzo sull'albero maestro di questa nave visto che quell'altro non ce n'ha e voilà e ho finito ho affumicato tutta la zona poi c'è un cartello di rinversamento? si lo lascio un bel cartello andiamo a vedere vediamo se lui stesso ha cartelli così uniamo l'utile al direttevole vediamo un poco allora io penso che qui ce ne si chiamano invece ci sono libri qua abbiamo ah ma lui c'ha legno ecco qua legno ecco che c'ha i cartelli allora il fumo muoce gra gravemente alla salute ecco sei risaputo no? si si e poi gli scrivi i landmark invece muociano gli fps i landmark invece muociano invece non c'entra muociano io avrei detto coffee fruit però va bene uguale dai perché questi cartelli si piazzano vuoti e niente guardate la zona di notte che bella tutta fumante proprio sembra sembra passato proprio un bombardamento senza buchi e senza niente poi lo vedrai in video in caso e niente io sono Zedaliner ci vediamo un prossimo video qui sulla CCM e serve della Geekbattery 5 lasciate un bel mi piace ciao scrivete telegram ci manca Iki ciao Iki dove sei? sto inquadrando il suo waypoint for this week e Grazie a tutti. Grazie a tutti.